Iconize o Iconize è stato presente ieri a Live Non Era Durso, il programma condotto dalla bella, brava, sexy e simpatica Barbara Durso per la foto, su Canale 5, parlando della finta aggressione che avrebbe subito di stampo omofobo. In particolare Marco, questo è il suo nome all'anagrafe, avrebbe detto mi vergogno di avere finto. Andiamo con ordine, in pratica Iconize, all'anagrafe Marco ripeto che avrebbe trasmesso poco tempo fa nei social il fatto che de facto sarebbe stato aggredito e ci sarebbero state delle aggressioni nei suoi riguardi, aggressioni di stampo omofobo. In realtà non è stato aggredito, in realtà non c'è stata alcuna aggressione nei suoi confronti, nei suoi riguardi, ma l'uomo si è inventato tutto, ma adesso si pente amaramente. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate, datemi la vostra opinione e ci tenga ad averla. Un caro salutone da Leandro, il narratore italiano.